Benvenuti al Gran Caffè Roma di Giaveno, di Gianni e Stefano. Nel nostro locale proponiamo un'ottima caffetteria, degli aperitivi di eccellenza con una lista dei vini molto varia che tocca tante regioni d'Italia, abbiamo i rossi, i bianchi e le bonicine e poi il nostro prodotto principale è il gelato artigianale fatto da mio padre dal 1990 sia da sporto che da servire al tavolo fuori nel nostro ampio Deor con delle coppe gelato e nel nostro Deor proponiamo anche concerti di musica dal vivo durante il periodo estivo e invece all'interno abbiamo un ampio salone dove proponiamo le partite di calcio e organizziamo feste private come compleanni, battesimi e apericena di vario tipo. Ringrazio tutti coloro che hanno partecipato nella riuscita del rinnovo di questo locale e vi aspetto tutti quanti un abbraccio. E per ricordare una mia canzone, teletrasportatevi tutti al Gran Caffè Roma di Giaveno. Ciao! Ciao! Ciao!